La nuova Haas non è solo un render, e adesso vi spiegheremo alcune delle novità tecniche che potremmo vedere anche sulla nuova Ferrari. La prima novità che salta subito all'occhio è la geometria delle pance, partendo fin dalla sezione di imbocco, che adesso ha una geometria molto più allungata e ovalizzata, un po' come vedevamo sulla RB19. Le bocche dei retiatori presentano poi una novità di chiara derivazione Red Bull, ovvero il vassoio. Questo elemento va a splittare il flusso d'aria definendo chiaramente due flussi, uno interno e uno esterno alla vettura, verso il fondo. Le nuove pance presentano poi un effetto downwash molto marcato, in cui si vede chiaramente la curvatura per portare l'aria al retrotreno e far funzionare meglio la zona posteriore della vettura. L'altra grande novità che probabilmente vedremo anche sulla Ferrari è l'assenza del colon trentusione, che ora è annegato nel fondo. Questo ha permesso di liberare un sottoquadro molto più ampio, garantendo quindi una migliore alimentazione del fondo e una migliore efficienza aerodinamica. La zona delle pance non è l'unica però sulla quale è intervenuta il team americano. Haas ha modificato anche le sospensioni, cambiandone nella geometria. La nuova sospensione anteriore non è stata rivista nello schema, che resta al push rod, ma è stata rivista nella geometria degli attacchi, soprattutto quello del triangolo anteriore, che ora è molto più inclinato e con uno schema anti-dive. Al posteriore invece Haas ha modificato la posizione del tirante, questo per cercare di lavorare in maniera differente la sospensione e andare a risolvere quel grosso problema di gestione gomme che si era presentato lo scorso anno. Naturalmente il lavoro fatto sui sidebots ha obbligato il team americano a fare altre modifiche sotto la scocca. La nuova geometria delle pance ha obbligato Haas a rivedere la posizione dei radiatori, che ora sono stati messi più in alto. Per questo motivo l'iScoop è molto più grande e non più triangolare come quello dello scorso anno. Anche il cofano motore è cambiato. Sulla WF24 non troviamo più una soluzione aderente, ma una specifica di derivazione Red Bull. Vediamo infatti un vassorio orizzontale in grado di portare il flusso a retrotreno in maniera differente e garantire quindi una migliore interazione tra l'ala posteriore e la beamwing. Davanti invece non ci sono grandi novità. Il Musio resta attaccato al penultimo elemento, mentre i profili alari cercano comunque un effetto outwash per allontanare la scia sporca degli pneumatici e garantire una migliore efficienza aerodinamica della vettura. Quella mostrata potrebbe non essere la versione definitiva della AS WF24, ma anzi è molto facile che i test in Bahrain vedremo dei nuovi componenti sulla monoposto del team americano. Tuttavia però sono già stati mostrati alcuni dei concetti su cui si baserà lo sviluppo di quest'anno e sono completamente diversi rispetto a quelli della monoposto dell'anno scorso. Qualcosa di molto simile potremo vedere anche sulla Ferrari SF24, che verrà presentata il 13 febbraio a Maranello. E voi cosa ne pensate della nuova AS?